Ciao, sono Antonella del negozio Le Chicche, abbigliamento Donna Curvi. Anche questa volta vi faccio vedere le novità che sono appena arrivate. Iniziamo da questo completo qua, che è una casacchina con una balza in taftà e col fiocco in taftà, viola. L'abbiamo appoggiata a un abito stropicciato sotto veste, sempre viola. La maglia c'è anche in nero, che è questa, la maglietta viene 79 euro, mentre l'abito stropicciato sotto veste viene 76 euro. Poi vi faccio vedere questo, un altro completo, sempre con la maglia in punto Milano, la balza in taftà, il punto Milano è in viola scuro, con la balza in taftà nero e il pantalone a palazzo, gamba larga, sempre in punto Milano, che viene 69 euro, mentre la casacchina viene 64 euro. Poi abbiamo questa giacca bellissima, sposto questo per far vedere meglio, è una giacca in pura lana, molto ampia, con un bottone grandissimo, fa da motivo. Il collo rovesciato lascia vedere uno scacco, oppure si può portare anche con il collo girato all'interno, che rimane tutta in questo rosa ciclavino molto bello. È una pura lana e costa 204 euro. Il completo che ho indosso io, un pantalone gaucho con risvolto, con sopra una maglia di lana stropicciata, lunga, annodata da un lato, ma si può portare anche senza il nodo, e sotto ha una canotta, sempre in viola, oppure l'altra alternativa del colore della canotta è questo, che è un viola più scuro. La maglia viene 69, il pantalone 69, mentre invece la canotta costa 59 euro. Ok, ciao!